Ciao ragazzi, oggi andremo alla gara sociale ad Olgiate e poi oggi abbiamo trovato le nostre vecchie cose che porteremo a vendere al mercatino i pantaloni stra piccoli vediamoli, sono i pantaloncini corti e stivi che non si vedono ma non ti vanno più bene per niente e poi la pettorina è troppo piccola la nostra prima pettorina, guardate com'è piccola è una cosa incredibile questa pettorina è troppo piccola sta cosa dai che andiamo a metterle in vendita va quasi ci spiace venderle è vero? ci guadagniamo soldi eh sì, ci guadagniamo soldi per comprare altre cose per la BMX nice ciao bravissimi anche noi a uscire dal cancelletto di partenza grande Cri eccolo qua, già gara in solitaria vai Cri vai Cri terza fila qui si viaggia sempre viaggia, viaggia come sta andando Cri bene come fate voi? dai fuori stanno spiando li hanno cacciati fuori 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 li hanno cacciati subito fuori 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 sei fuori sono fortissimo vai Cri vai Cri vai Cri vai Cri è quello che è già grande Cri bravo grande 3 a Fendoni 3 a Fendoni grande Andrea errore juniore partito a bomba è spettacolo guardalo è spettacolo guarda i salti carraro super veloce super rapido salto per il triplo rilucissimo vai Tommy quindi correggiamo carraro con la categoria Junior grande team agonistico io già a Tecomasco con tutti gli sponsor qui abbiamo Cristian vediamo se lo vediamo eccolo lì il mitico Cree e dall'altra parte abbiamo il fotografo sulla scala che fa la foto e da questa parte abbiamo tutti i nostri apripista e qui abbiamo tutto il pubblico che è posizionato sulla prima linea bellissimo la squadra di H Enduro e che i i i i i i i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.